non c'è bisogno vai è perfetto questo tu senti di essere soddisfatto se la faccio a felice pensa che t'ha scritto nel Cassi quando hanno cerchiato il Cassi che volevano quello con il Cassi so vai lo raccogli dal muretto metterò più ah vabbè non importa vai girati verso l'orizzonte eh sì che devi lanciarlo pronto? 3 2 1 vai eee 1 1 1 1 1 1 Grazie.